La Roma vince la prima partita del suo campionato, lo fa contro l'Udinese fin qui sorpresa di questo avvio di Serie A. Meglio non poteva sperare il neotecnico giallorosso Ivan Iuric in una settimana difficile, culminata con la protesta all'Olimpico, tutti contro la società, con i tifosi dentro con mezz'ora di ritardo, striscioni solo per l'allenatore romano e leggenda romanista, fischi ai calciatori, pellegrini e cristante su tutti. Intanto, però, l'allenatore croato vince e convince al suo debutto. La Roma, schierata col 3-4-2-1, ha l'atteggiamento giusto e batte l'ex capolista udinese con tre gol di scarto. Dogbic apre con un gol da cecchino, Di Bala raddoppia su rigore, Baldanzi fa il 3-0 definitivo. Chiama la Roma e entra mezz'ora dopo, recita uno striscione affisso all'esterno dell'Olimpico. E, questa la forma di protesta dei tifosi della Roma dopo il caos degli ultimi giorni. Chi resta fuori intona cori per Daniele De Rossi, ma intanto in panchina non c'è più lui. La Roma parte con l'atteggiamento giusto, si intravede anche qualche concetto dell'allenatore croato. All'ottavo, Dogbic già flirta col gol, che poi arriverà. Chi resta fuori si perde anche questo, il gol di Dogbic, un assist in verticale di El Sharawi e il tiro al fulmicotone dell'Ucraino che non dà scampo a Okoye. Anche quando la curva sud entra la Roma si fa preferire all'Udinese e si rende pericolosa con Dybala che manda sopra la traversa. Pressione, tante palle gol e il vantaggio è meritato. La prima Roma di Juric per ora convince. Al rientro dagli spogliatoi l'approccio della Roma al secondo tempo è lo stesso del primo, massima aggressività. E infatti tempo tre minuti, anche meno, e Dogbic riconquista palla in attacco, la serve a Dybala e in area viene steso, calcio di rigore, guadagnato e trasformato con gran freddezza dall'ex Juventus, applaudito dall'Olimpico. E? La rete del 2-0 che mette completamente in discesa la partita, perché l'Udinese sembra poi uscirne e rientrarne solo a tratti. Continua a destare interesse la reazione dell'Olimpico, che continua a fischiare Cristante e soprattutto Pellegrini. Al momento del cambio, ne piovono a bizzeffe, fortissimi. Poi il fato è incredibile tempo un minuto e il suo sostituto, Baldanzi, combina con Dogbic e realizza il 3-0. Tutto facile, dunque, Juric vince e convince all'esordio.